5. A teatro, la sera, l'interesse per lo spettacolo e il da fare non trascurabile che le provocava a rispondere ai cenni del capo e ai sorrisi di Miss Thorpe non occuparono Catherine al punto da farle dimenticare Mr. Tilney. Ella lo cercava in tutti i palchi, fin dove giungeva il suo sguardo inquisitore, ma in vano. Mr. Tilney non amava il teatro più della pump room, sperò di essere più fortunata il giorno seguente e allorché l'indomani constatò che, secondo i suoi desideri, la mattinata era bella. Le speranze divennero certezza perché una domenica di bel tempo a Bath spinge tutti gli abitanti fuori di casa e tutti colgono l'occasione per andare a passeggio e per dire ai conoscenti che bella giornata. Terminato il servizio di vino, le Thorpe e le Allen si riunirono gaiamente e dopo aver sostato alla pump room quel tanto che bastava per scoprire che la folla era insopportabile e che non vi era nemmeno una persona carina da ammirare, scoperta che si ripeteva tutte le domeniche della stagione, si affrettarono verso il Crescent per respirare altra aria in un ambiente migliore. Catherine e Isabel, a braccetto, gustavano di nuovo le dolcezze dell'amicizia in una conversazione senza riserve. Chiacchierarono a lungo e con grande piacere, ma Catherine fu delusa nella speranza di rivedere il suo cavaliere. Non c'era in nessun luogo. Tutte le ricerche durante il passeggio del mattino e nelle riunioni della sera furono vane. Non vi erano tracce di lui alle upper rooms, alle lower rooms, ai balletti o ai balli di gala, né fra la gente che passeggiava, né fra coloro che montavano a cavallo, né fra quelli che la mattina guidavano le pariglie. Il suo nome non figurava nei registri della pump room e ogni ricerca si arenava. Doveva essere partito da Bath. Eppure non aveva detto che il suo soggiorno sarebbe stato di così breve durata. Questo velo di mistero, che tanto si addiceva a un eroe, circondava di nuovo fascino nella fantasia di Catherine, la persona e le maniere di Tilney. E gli alimentava il desiderio di conoscerlo meglio. Dalle ragazze torp non le era possibile avere alcun ragguaglio perché, quando incontrarono Mrs. Allen, esse si trovarono a Bath solo da due giorni. Mister Tilney, però, costituiva un argomento sul quale Catherine amava intrattenersi spesso con l'amica, che la incoraggiava molto a pensare a lui. Così l'impressione lasciata da mister Tilney nella fantasia della fanciulla non rischiava di impallidire. Isabelle aveva la certezza che Tilney era un simpatico giovane ed era ancora più certa che doveva essere innamorato di Catherine e che perciò sarebbe ritornato presto. A lei piaceva che egli fosse un pastore perché, doveva confessarlo, nutriva gran simpatia per la chiesa. E tra queste parole le sfuggì qualcosa come un sospiro. Forse Catherine fece male a non chiedere il motivo di quella gentile emozione, ma non aveva sufficiente esperienza delle finezze dell'amore e dei doveri dell'amicizia per rendersi conto dell'opportunità di celiare garbatamente o di forzare una confidenza. Ora Mrs. Allen era molto lieta e soddisfatta di Bath. Aveva trovato dei conoscenti e per fortuna proprio nella famiglia di una vecchia e stimatissima amica. Per colmo di fortuna, quelli signori erano ben lungi dal vestire dispendiosamente come lei. La quotidiana invocazione «Vorrei avere dei conoscenti a Bath» si era trasformata in «Come sono felice di aver incontrato Mrs. Thorpe». Ed ella desiderava tanto le riunioni delle due famiglie come avrebbero potuto desiderarle la sua giovane protetta e Isabel. Mai soddisfatta della sua giornata se non ne aveva impiegata la maggior parte al fianco di Mrs. Thorpe, in quella che chiamava «una conversazione». Ma che non era quasi mai uno scambio di opinioni e raramente trattava di un argomento comune alle due interlocutrici, perché Mrs. Thorpe parlava principalmente dei figli e Mrs. Allen dei propri vestiti. I progressi dell'amicizia fra Catherine e Isabel furono rapidi come l'inizio era stato caloroso. Passarono tanto velocemente per ogni grado di crescente tenerezza, che in breve le due amiche non ebbero più nuove prove di affetto da scambiarsi. Si chiamavano per nome, passeggiavano a braccetto, si appuntavano a vicenda lo strascico del vestito per ballare e durante le quadriglie non volevano mai separarsi. Se il cattivo tempo impediva loro ogni altro svago, si riunivano in casa, a dispetto della pioggia e del fango, e si appartavano per leggere insieme dei romanzi. Sì, proprio dei romanzi. Perché noi rifugiamo da quella meschina e maldestra abitudine, tanto comune ai romanzieri, di schernire con sprezzante biasimo tutta una categoria di lavori da essi medesimi arricchita, unendosi ai loro avversari, per gratificare dei più aspri epiteti quelle opere e non permettendone quasi mai la lettura alla loro eroina, la quale, se apre per caso un romanzo, si limita solo a sfogliarne con disgusto le insulse pagine. Ahimè! Se l'eroina di un romanzo non è sostenuta dall'eroina di un altro romanzo, da chi mai ella potrà sperare interessamento e sostegno? A parer nostro, conviene lasciare ai redattori di reviste il compito di vilipendere al loro piacere ogni slancio di fantasia e di abbandonarsi, a ogni nuovo romanzo, al linguaggio trito e volgare della stampa attuale. Non disertiamo la nostra causa. Apparteniamo a una cassa discreditata. Sebbene la nostra produzione offra un diletto più ampio e spontaneo di qualsiasi altro genere letterario, nessun genere di composizione è stato maggiormente svalutato. Per vanità, ignoranza o moda, i nostri nemici sono numerosi quasi quanto i nostri lettori. E mentre l'abilità dell'ennesimo sunteggiatore della storia d'Inghilterra, o di colui che raccoglie e pubblica in un volume circa dodici versi di Milton, di Pope, di Frior, con un brano dello Spectator e un capitolo di Stern viene esaltata da mille penne, sembra ci sia una preoccupazione quasi generale di contestare l'importanza di sottovalutare le fatiche del romanziere e di disprezzare quelle opere che si impongono solo con l'ingegno, lo spirito e il gusto. Non sono un lettore di romanzi, do appena un'occhiata ai romanzi. Non crediate che io legga spesso romanzi, per essere un romanzo è passabile. Sono questi i soliti luoghi comuni. E che cosa leggete, signorina? Oh, non è che un romanzo, replica la giovinetta, lasciando cadere il libro con indifferenza ricercata o con momentanea vergogna. È Cecilia, o Camilla, o Belinda. O, per farla breve, non è che un'opera nella quale sono prodigate le più belle facoltà dello spirito e che offre al mondo, in un linguaggio scelto, la più completa conoscenza della natura umana, la più felice descrizione delle sue varietà, le più vive manifestazioni di spirito e di brio. Se invece fosse alle prese con lo Spectator, la giovane lettrice mostrerebbe il libro e ne proclamerebbe il titolo con grande orgoglio, sebbene sia poco probabile che una fanciulla di buon gusto trovi allettamento nella materia e nello stile di quella voluminosa pubblicazione, in cui si trovano raccolti principalmente aneddoti inverosimili, descrizioni di caratteri stravaganti, dissertazioni che non interessano più anima viva. Il tutto in un linguaggio la cui frequente volgarità certamente non induce a formulare un giudizio benevolo sull'epoca che lo potette sopportare. 6. La seguente conversazione, svoltasi fra le due giovinette alla pump room una mattina, otto o nove giorni dopo essersi conosciute, sta ad attestare il loro grande attaccamento.